Ci vediamo il prossimo anno per la settima edizione di Musical Museo. Così il maestro Mirko Gangi, direttore artistico del concorso, ha salutato il folto ed entusiasta pubblico che ha gremito il Teatro Margherita di Caltanissetta in occasione del Gran Galà conclusivo nel corso del quale si sono esibiti i singoli vincitori delle sezioni della prestigiosa manifestazione che dal 27 al 30 aprile ha fatto convergere nel capoluogo nisseno oltre 2.500 studenti. Il concerto ha celebrato degnamente la conclusione della sesta edizione del concorso musicale nazionale Musical Museo per le scuole secondarie di primo grado, per gli alunni dell'indirizzo musicale Sezioni Giovani Talenti da 8 a 25 anni. Sul palco a condurre la serata, oltre al maestro Gangi, Martina Vacca. Durante la serata è stato ratificato con la firma del protocollo il gemellaggio con il concorso internazionale musicale Città di Scandicci-Firenze. La firma sul documento è stata apposta dal sindaco della città toscana Sandro Fallani e dal vice sindaco del capoluogo nisseno l'assessore Matteo Tricoli. Alla cerimonia hanno preso parte anche il maestro Luca Marino, direttore artistico del concorso di Scandicci e il professore Emilio Giammusso, presidente del comitato d'onore di Musical Museo. Tutti hanno sottolineato la proficua sinergia a supporto anche di attività di promozione del territorio tra le due manifestazioni. L'accordo inoltre prevede che i vincitori assoluti della categoria orchestra di Musical Museo saranno esentati dalla quota di iscrizione per la partecipazione al concorso internazionale Città di Scandicci nell'edizione 2017 e viceversa i vincitori assoluti della categoria orchestra del concorso di Scandicci saranno esentati dalla quota di iscrizione per la partecipazione al Musical Museo per l'edizione 2017. In prima fila in platea anche l'assessore alla cultura del comune di Caltanissetta Marina Castiglione. Nel suo intervento ha evidenziato il valore artistico ed educativo assunto dal concorso e l'importanza che riveste anche come volano per l'economia della città. E l'assessore ai beni finanziari e patrimoniali Boris Pastorello che ha consegnato il premio Miglior Giovane e Talento Giuseppe Pastorello a Andrea Emanuele Pianoforte. L'onorevole Alessandro Pagano ha ufficialmente consegnato al concorso la medaglia della Presidenza del Senato per conto del Presidente Pietro Grasso. Pagano ha rimarcato con orgoglio l'eccellenza della manifestazione che vi veicola con prestigio il nome di Caltanissetta in Italia. Musical Museo può freggiarsi del premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica conferito al concorso dal Presidente Sergio Mattarella oltre che del patrocinio della Commissione Nazionale per l'UNESCO per la seconda volta consecutiva e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Riconoscimenti che collocano il concorso in una posizione di preminenza nel panorama nazionale tra le manifestazioni di tal genere. Ecco l'elenco dei premi e riconoscimenti assegnati nel corso della serata. Premio Edizioni Lusso Grafica all'Ensamble Misto dell'Istituto Giannone di Pulsano. Referente il professor Livio Grasso. Premio International Inner Wheel Club Caltanissetta a Nicole Insalaco, violino. Premio Italiana Gioielli a Salvatore Miceli, fiati. Premio Rotaract Music al trio Percussioni Vasco Pratolini-Scandicci. Premio Rosa Maria Collodoro de Cristoforo a Fabio Trigilia chitarra. Premio Cairos Rotary Club Caltanissetta alle orchestre Vittorino De Feltre Caltagirone e Giannone Pulsano. Premio della critica per la migliore interpretazione ad Andrea Emanuele Pianoforte. Premio miglior giovane talento Giuseppe Pastorello ad Andrea Emanuele Pianoforte. Premio giovane promessa Ilda Napolitano a Aurora Di Prima, Istituto Europa Barra Franca. Riconoscimento miglior arrangiamento al professor Giuseppe Fornaro per il brano Asturias dell'Istituto Giannone Pulsano. Riconoscimento miglior composizione originale al brano Anima Sonora composto dal professor Antonio Graziano, Istituto De Amici Sebaccelli-Sarno. Riconoscimento alla miglior sezione percussioni al maestro Luca Marino, Istituto Vasco Pratolini-Scandicci. Riconoscimento miglior direzione orchestrale al maestro Adriano Taibi Vittorini da Feltre Caltagirone. Noi siamo la scuola Giannone di Pulzano Taranto, un istituto comprensivo. È una scuola che ha 25 anni di vita ed è stata fortemente voluta inizialmente dalla dottoressa Catarina Bagnato e poi oggi è fortissimamente sostenuta dalla dottoressa Bianca De Gennaro. È una bellissima soddisfazione. Abbiamo avuto una conferma di quello che pensavamo fosse tanto impegno, tanto lavoro. Chiaramente tutti meritavano tanto e siamo stati premiati. È bellissimo. La stessa cosa è successa. L'importante è essere arrivati fino a qui insieme. Credo che quello che è avvenuto ha dell'eccezionale e dell'incredibile. È considerato che in sei anni sono raggiunti i risultati di eccellenza. È chiaro che quello che abbiamo raggiunto non è la parte finale, ma già a partire da domani organizzeremo il settimo concorso. Il nostro obiettivo è quello di arrivare all'internazionalizzazione di questo concorso per avere qui dei talenti oltre a livello nazionale anche a livello internazionale. Credo che tutta la comunità può essere soddisfatta di questo risultato. Immaginiamoci un programma più ambizioso. Io credo che attraverso la collaborazione di tutti, attraverso la cultura della collaborazione, è possibile arrivare a traguardi importanti. La sfida non è impossibile.